Questo rialzo di Bitcoin è stato una trappola e tra poco il mercato tornerà a scendere, anzi andrà peggio di prima e quindi con grande probabilità questo rimbalzino è il rimbalzo del gatto morto. È vero o non è vero? Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dove andiamo ad analizzare il grafico per rispondere a questa domanda, cioè se il rialzo, quello che è avvenuto dal 5 di agosto, questa gambetta rialzista può essere considerata esclusivamente un rialzo da gatto morto oppure ha delle strutture che possono farci ben sperare sul ripresa del mercato. Quindi analisi un po' della situazione e poi i tre punti chiave che Bitcoin è andato a disegnare proprio negli ultimi mesi. Tre punti importantissimi che lasciano però spazio anche a Bitcoin stesso di delineare una ripresa magari più consistente anche nelle prossime settimane qualora appunto questi livelli, queste zone di prezzo venissero rotte precisamente diciamo in maniera almeno confermata con una chiusura della candela daily al di sopra di questi livelli. Allora partiamo subito dall'analisi del grafico per rispondere alla prima domanda, cioè quella relativa al fatto se questo rimbalzo può essere considerato o meno il cosiddetto rimbalzo del gatto morto. Ci sono dei dati che ci fanno presumere che questa cosa può essere vera o no? Andiamole a vedere insieme sia da un punto di vista di analisi tecnica, anzi soprattutto da un punto di vista di analisi tecnica, però anche la struttura ciclica, anche se la ciclica in questo momento non dà una informazione. Poi dopo la seconda domanda sarà da rispondere e sarà l'indicazione di questi tre punti chiave proprio per Bitcoin. Allora da un punto di vista di analisi tecnica per comprendere se questa struttura è un rimbalzo del gatto morto bisogna analizzare quelli che sono i giorni precedenti a questa struttura nell'immediato, quindi poco poco prima. In particolar modo due sono le strutture importanti, questa configurazione di una specie di montagna che andate a vedere, quindi up and down, che crea in pratica un minimo inferiore al precedente e poi lo stesso livello di minimo con la configurazione della candela che ha generato questo minimo per quanto riguarda Bitcoin, Bitcoin, cioè è andato a generare questa struttura di una lunga shadow ribassista che poi è stata riassorbita con un'escursione in termini di volatilità notevole rispetto a quelle che sono i giorni scorsi, perché qui abbiamo fatto un meno 15 in pratica, un'oscillazione del 15% circa all'interno della singola giornata. Queste sono due strutture che sono molto significative e che naturalmente richiamano un po' quelle che sono le risposte che andiamo a delineare. Allora, intanto una struttura creata in questo modo che genera in pratica un minimo inferiore al precedente che però viene poi recuperato, che viene strutturalmente fatta in questo modo, e tendenzialmente, non sto dicendo ragazzi che è sicura questa cosa, però tendenzialmente rappresenta una struttura di chiusura di un movimento di trend precedente, cioè in pratica è come se questa fase, questa montagna sia andata ad essere l'ultimo movimento conclusivo di un trend che era delineato in questo modo. Di solito avviene così, cioè avviene con una rapida scesa e poi subito una rapida discesa che va a rompere il minimo precedente e poi recupera con un asciato, quindi fa una liquidazione in termini di domande e offerta, quindi se qui dovessimo ragionare in termini di quelli che sono gli operatori di mercato, quindi i tori e gli orsi, qui è avvenuta una vero fake, rialzo fake, per poi andare a riassorbire tutte le strutture di supporto e liquidare tutti quelli che erano long, ammandando il stop praticamente tutti quelli che avevano preso una posizione long in questo punto. Quindi in sostanza questo è un movimento a campana che è un movimento di liquidazione delle posizioni long, in pratica uno stop hunting gigantesco. Di solito avviene nella parte conclusiva di un movimento più ampio che a questo punto potrebbe essere indicativo come la barra di congestione laterale ribassista che è fatta in questo modo, tanto è vero che anche la struttura di tempo è accelerata, quindi questo pump and dump è avvenuto in maniera accelerata, nonché anche la liquidazione è stata notevole con un incremento di volatilità e di volumi proprio all'interno di quella giornata. Quindi tutti i dati, tutti quelli che sono le strutture portano a identificare questo movimento come un movimento conclusivo e quindi se noi dovessimo già dare un punteggio dovremmo dire che la trappola per Tori, diciamo così, è avvenuta nel precedente mese di luglio e non dovrebbe essere questa che stiamo assistendo. Poi rispondiamo anche alla domanda se è possibile avere due mesi con due stop hunting identici in pratica. Il secondo punto da analizzare è questa candela, una candela che ha avuto un'oscillazione molto forte che crea in sostanza un minimo importante che va a toccare anche livelli importanti sotto i 50.000 dollari che viene però poi recuperato perché guardate che il recupero dal minimo di questa candela è stato del 9% soltanto in termini di low close, quindi all'interno della stessa giornata, in poche ore, il 10% è stato recuperato. Questo significa che la struttura ribassista che ha visto questa shadow è stata creata da liquidazioni e da bot che hanno preso stop loss e che hanno innescato una struttura di liquidazione massiccia. Quindi in pratica è come se questa shadow non esistesse in realtà per l'equilibrio di mercato ma esistesse solo e unicamente per i trader che sono stati liquidati in quella fascia di pricing. Quindi questa forma di candela ancora una volta è indicativa di una cosa ben importante, molto importante è indicativa della chiusura del movimento perché le liquidazioni sono avvenute e poi si è recuperato un prezzo di equilibrio e infatti il vero minimo poi che si va a delineare è stato quello un po' più vicino a quello precedente guardate come in effetti sono molto simili e anche la distanza che intercorre rispetto ai movimenti precedenti è praticamente identica. Se io dovessi andarla a misurare tra il minimo precedente e questo minimo abbiamo un circa 6% poi tra questo livello di minimo e l'altro successivo abbiamo un 4 e 32 tra questo e il successivo abbiamo un 3% quindi naturalmente è una decelerazione della fase ribassista e si vede questa cosa qui perché qui il ribasso tra chiusure dei minimi e minimi è maggiore qui è minore e qui è minore ancora quindi si è andato a ridurre è come se io assistessi a una decelerazione del movimento in pratica si va a creare quella che è la cosiddetta fase di stabilità che poi prevede una struttura di pendenza zero si definisce così non nelle funzioni e inversione della pendenza con un nuovo trend quindi in sostanza la candela in questione più le due chiusure e la oscillazione di queste due chiusure indicano che qui il movimento ribassista è meno forte e si sta esaurendo abbiamo avuto una liquidazione abbiamo avuto un movimento che è solitamente conclusivo perciò da un punto di vista di analisi tecnica questo rialzo non può essere considerato il rimbalzo del gatto morto questo lo era questo non può essere considerato il rimbalzo del gatto morto c'è da dire che ancora i punti salienti i punti più importanti quei tre che vi sto dicendo vi ho detto all'inizio non sono stati ancora toccati da bitcoin soprattutto hanno retto alla grande ma è vero anche che bitcoin ha lasciato delle mollichine per strada che quindi possiamo anche andarle a verificare che accelererebbero questo movimento di recupero perciò questo non è al momento considerabile un rimbalzo del gatto morto analizziamolo sotto il profilo invece dell'analisi ciclica e ahimè la vera differenza la fa proprio l'analisi ciclica perché nella struttura dell'analisi ciclica questa configurazione di liquidazione come vi spiegavo si definisce lingua di Bayer che è un ciclo finale di un movimento più lungo è solitamente conclusivo di un trend però è anche vero che questa struttura fa parte di un pensile ribassista di un movimento più ampio che viene definito trimestrale quindi composto da tre movimenti di questo è uno questo sarebbe il secondo e questo il terzo ho fatto un tre che è terribile e che quindi se questo movimento si è vincolato ribassista perché appunto è stato con un minimo inferiore al precedente gli altri due non possono che seguire la stessa identica struttura e non c'è nessuna possibilità per l'analisi ciclica quindi per l'analisi ciclica in questione questo potrebbe essere un rimbalzo del gatto morto la tecnica lo esclude ma la ciclica lascia un bel punto interrogativo gigantesco su questa cosa perché qualora qui sia effettivamente iniziato un nuovo movimento trimestrale un solo mese non basta almeno ce ne servono due per chiudere questo movimento perciò una fase di ripresa che riguardi questa struttura indicherebbe che qui è stato chiuso un ciclo maggiore quindi l'annuale sicuramente e non c'è altra opportunità in sostanza per farla breve in sintesi o qui abbiamo chiuso la struttura annuale e questo è un vero rimbalzo di bitcoin o questo è il rimbalzo del gatto morto non c'è nessun'altra soluzione perché se fa parte del precedente ciclo questa struttura tornerà a fare nuovi minimi e probabilmente lo farà anche la successiva quindi il successivo mensile andiamo a questo punto a comprendere come fare a comprendere queste cose cioè come faccio io a capire come muovermi quali sono le indicazioni si basano su questi tre punti che vi sto dicendo che sono anche le mollichine che in effetti bitcoin ha lasciato in questo momento ha lasciato tre punti chiave di massimo uno due e tre questo appena fatto attenzione perché tutte e tre questi punti sono punti di accelerazione di alzista qualora bitcoin li andasse a toccare in particolar modo noi qui abbiamo un canale discendente un po' fatto in questo modo che sta bloccando le fasi di riprese di bitcoin veramente da tanto tempo questo canale discendente se verrà intaccato confermerà l'inversione di trend perciò il primo scoglio cioè il primo livello che è stato disegnato da bitcoin stesso proprio qualche giorno fa adesso è diventato cioè questo massimo a 65.000 dollari è diventato la chiave per la definizione di questo movimento se questo movimento avrà è diciamo parte del nuovo ciclo annuale questo 65 questo livello da 65k dovrà essere rotto al rialzo da bitcoin quando nella partenza del prossimo ciclo mensile che come vi ho detto nel video di lunedì potrebbe avvenire o a chiusura del mese di agosto verso i primi di settembre intorno al 5 oppure qualora ci sia un movimento di natura ternaria fare una cosa del genere e quindi in pratica essere chiuso appunto nei giorni ve l'ho detto nel video di lunedì ragazzi andatelo a rivedere non mi ripeto in sostanza questo ribasso che è avvenuto proprio nei tempi indicati in quel video come ipotesi di natura ternaria adesso pone il problema e dice ok questo movimento potrebbe essere in effetti un ternario attenzione perché se è un ternario le probabilità che qui sia stato chiuso un annuale che quindi questo rimbalzo non sia una trappola aumentano ragazzi non diminuiscono aumentano perché non scompare ovviamente la possibilità fino al superamento intanto del 65 poi del secondo livello che adesso andiamo a vedere non scompare la possibilità ribassista però aumenta la probabilità che questo rimbalzo sia effettivamente un nuovo trend rialzista ma come fare adesso è semplice qui dovrebbe essersi chiuso il primo movimento ternario quindi se fa una cosa del genere a livello ciclico adesso dovremmo assistere al recupero di queste strutture di ribasso di ieri e l'altro ieri e subito al riposizionamento di bitcoin intorno a quota 64.000 per il il tentativo poi di il 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 primo livello in sostanza questo dovrebbe avvenire entro i prossimi giorni secondo me non più tardi di venerdì lunedì prossimo se non avviene probabilmente andremo a configurare un mensile classico che è in fase di definizione in fase di chiusura e poi lo vedremo quindi da un punto di vista di operativo il quello a cui dobbiamo assistere è un recupero entro brevissimo venerdì sabato di questi livelli a quel punto qui saremo in un probabile ciclo di natura ternaria che si è andata a chiudere quindi un trimestrale un bimensile poi andremo a vedere di natura ternaria un po' complicata questa cosa e poi dovremo assistere al superamento dei 65.000 già questo tipo di segnalazione indicherebbe che questo trend non è una trappola quindi la probabilità si sposta proprio all'inizio di un nuovo ciclo annuale poi però la conferma ufficiale l'avremo solo al superamento di questo livello che è il vero livello il vero livello chiave che sancisce proprio l'inizio di una nuova fase che bitcoin ci ha lasciato 70.000 dollari quindi questi sono i due punti chiave il primo 65 l'altro 70.000 se saranno rotti al rialzo da parte di bitcoin indicheranno al 100% che qui è iniziato un nuovo trend e questo trend ha tutte le carte in regola per andare a rompere i massimi storici di bitcoin quindi trappola sì trappola no analisi tecnica dice che non è una trappola analisi ciclica dice invece fate molta attenzione perché potrebbe andare male la questione la risposta finale è che se nei prossimi due tre giorni non recuperiamo velocemente questo livello la probabilità di continuare un ribasso si sposta ovviamente a favore dei orsi e quindi dei movimenti ribassisti quindi pochi giorni anche per avere risposte da questo punto di vista fatemi sapere anche voi cosa ne pensate è una fase estremamente delicata questa di bitcoin molto difficile molto estenuante ragazzi reggete il colpo perché siamo nei tempi come dal video precedente quello legato all'unico grafico importante che è quello relativo alla struttura dell'albing di bitcoin reggete il tempi perché ancora ancora c'è tempo siamo nella normalità dei tempi di questa fase di riposo dell'albing nulla è cambiato rispetto ai dati precedenti perciò reggete il colpo mi raccomando perché il bello secondo me deve ancora venire o almeno così speriamo ciao a tutti qui